Ciao ragazzi, allora, nonostante qui stia nevicando o faccia freddo, sono andata a comprare qualche peggio in più per il concorso e ho preso qualcosina anche per me, che poi vi farò vedere. Allora, ho già messo tutto qua dentro e ho preso questa crema per il corpo, fior di ciliegio, da botteca verde. Io l'avevo già comprata, l'ho già usata ed è molto molto buona, un profumo delicatissimo, è veramente fantastica, è altamente idratante e ce ne sono dentro 40 ml e questa credo di metterla al secondo premio. Poi, al primo premio ho preso questo gel detergente di Sephora, io l'avevo già comprata, l'ho già usata ed è buonissimo soprattutto per andare in viaggio, per non portarsi dietro i boccettoni di detergente, piuttosto che statole, dipende comunque chi e cosa usa e questo qua è comodissimo. Qua dice che sono 4 dosi, io a dire la verità l'ho usato per 8 dosi, cioè io non è che mi metto chissà quanta roba in faccia quando me la detergo, quindi per me ne metto 8 dosi, perché ogni boccettina l'ho divisa per 2. E questo va al primo premio. Poi, al primo premio va questo, che sono i dischetti Mavala Remover, io ce li ho, mi trovo bene, anche questi qua per il viaggio consigliatissimi e al secondo premio andranno queste ciglia finte, che ho appena appena ordinato, mi sono arrivate proprio oggi e ne ho prese un po' e quindi le ho prese per i vari concorsi. Poi ho preso per il primo premio, questa qua, che è la matita occhi di Sephora, quella verde oro, io ce l'ho, è fantastica, è waterproof, scrive benissimo all'interno dell'occhio e fa un gioco di luci e ombre, è fantastica, quindi questa ha il primo premio. E al secondo premio un'altra cosa che io ho, che è questa matitina Lip Pencil, Pupsia, è fantastica, io l'ho già usata, mi sono colorato tutte le labbra, ci ho messo un velo di gloss trasparente sopra, un trucco molto leggero sugli occhi, quindi solamente mascara e matita verde all'interno dell'occhio ed è fantastica, è un colore un po' particolare. E questo andrà al secondo premio. Poi ho messo per ognuna un campioncino, ma è andato proprio due la bottega verde, del loro nuovo profumo che deve uscire in questi giorni, si chiama Acqua. Basta. Niente, credo di aver detto tutto, sì, credo di aver detto tutto, quindi primo premio, secondo premio, secondo, allora, secondo premio in più vanno queste, queste qua, e al primo premio vanno queste, questi qua, e la matita in più. E niente, spero vi piaccia, non credo di fermarvi qua, ho preso dell'altra roba da sicura, però per i prossimi concorsi. Niente, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Grazie veramente a tutte quelle che, tutte le ragazze che stanno partecipando, che si stanno iscrivendo, sono veramente felicissime, stiamo toccando la soglia dei 200 iscritti, e sono veramente, 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 veramente contenta. E niente, non so veramente come ringraziarvi, non sono molto espansiva, io quindi, veramente ragazze, non me l'aspettavo, spero continuerete a seguirmi in tante, che aumenti tante cosine carine, non solo concorsi, ordini accumulativi, perché, niente. E... ciao!